E io che ti registro? Alex? Hola, Madonna! Sei forte, sei forte, Alex! Ho detto, Alex, da non confondere con Alessio. Aspetta, perché adesso qua, per non confondere i nomi, Alessio, Alessio, B, Giorgia, Giorgia, no, perché il nome, poi ci vuole anche la fotografia, poi ci vuole l'animation. Nicoletta! Ah, Nicoletta, perfetto. Eh no, quello non ha nome, non vale. Non ha nome, non vale. Com'è che si chiama questo? Fabio, dai Fabio, fa vedere. Abito in Calabria. Calabrese. Calabrese. Quindi, quindi non sei italiano, sei della Calabria. Sei tu, punto it. Oh ma tu, vaga, perché io lo pubblico davvero. Sei tu, rincorni. No, che rincorni e... Eh sì. Fai una foto, Mattia, così la gente non viene in vacanza, guarda che faccia che c'è. No, questi qua ci sono i ragazzi giovani, giusto? Ma voi avete già nome o ve lo danno dopo? Sì, vabbè, i nomi se devono meritare. Ah, nel senso, il cartellino? No, non glielo date ai giovani il cartellino? Ecco, sì. Ah, scusa. Uno, vai. Aspetta, due, aspetta un attimo. Sei tu? Sei tu che c'hai? Eh, petta? La mia passione. Scusa, il telefono non me lo dai? No. Ah, no, pensavo. Altre, allora... Ciao ragazzi! Ciao! Siete forti! Ciao! A questa sera! A questa sera! A prossimo video! Ciao! Asticko! Grazie a tutti.